Azioni e misure per migliorare la qualità del paesaggio in ambito urbano e rurale per il mantenimento e ripristino della naturalità, il rafforzamento della biodiversità e la riqualificazione delle aree urbane. Sono 56 le proposte progettuali dei comuni lucani finanziati dalla regione Basilicata con 27 milioni di euro. Il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore all'ambiente Cosimo Latronico hanno incontrato i rappresentanti delle amministrazioni beneficiari e responsabili dell'attuazione degli interventi previsti ai quali hanno consegnato il disciplinare che regolerà i rapporti amministrativi, contabili, finanziari e procedurali. L'iniziativa è stata assunta in attuazione della legge regionale 53 del 2001 e intenzione dell'assessore candidare a finanziamento con la prossima programmazione anche 37 progetti validati al momento non finanziati per un importo di circa 18 milioni di euro. I comuni lucani, ha detto il governatore, devono svolgere un ruolo importante nella gestione delle politiche di governo del territorio a partire da questi progetti di compensazione ambientale con i quali investiamo in genti risorse pubbliche per rendere più vivibili gli ambiti urbani e rurali. Migliorare la qualità della vita nei comuni è anche un modo per combattere lo spopolamento. Occorre partire da qui per rafforzare i servizi essenziali per i cittadini e rendere i comuni più attrattivi per i giovani. Una scelta importante, un progetto significativo che coinvolge la metà quasi dei comuni della Basilicata e con l'impegno anche a portare avanti altre progettualità con altri finanziamenti. Oggi ne abbiamo impegnati circa 30 milioni di euro, sono risorse che provengono dalla compensazione ambientale e che vanno nella direzione di fare del paesaggio della nostra regione una risorsa. Naturalmente il paesaggio va vissuto, va coltivato, va valorizzato, va gestito e il senso di questa riunione è proprio questo. Tanti interventi promossi da tanti comuni, 56 comuni, che però devono avere un respiro territoriale, un respiro regionale. Dobbiamo costruire una carta della nostra regione con le sue emergenze ambientali e questi investimenti vanno nella direzione di fare del paesaggio un bene straordinario della Basilicata.